Ciao a tutti ed eccomi qua in Yo-Kai Watch 2 nella versione Polpanime Allora, avevo trovato questo quiz cartello Dopo varie consultazioni con veri amici lontani Abbiamo risolto, perché altro io non l'ho risolto io, ma l'hanno risolto gli amici Che questo, grazie a un'illuminazione E siamo arrivati al punto che il quiz evoca lo Yo-Kai Dance Ed eccolo qua E finalmente dopo ore e ore di lotte e catture, perché è qui nella grotta L'ho trovato e ora mi sta sfidando Bene Ecco, ho finito tutte le dosi di ramen utili per poterlo catturare E quindi niente, magari chiediamo un'altra e catturiamo un'altra, non lo so, combattiamo Allora, nella mia squadra ho messo Trispecchio e Bovin Divino E voilà, vediamo Vediamo un po', mettiamoci questo, vediamo un po' la super di Bovin Divino E adesso, inseriamo, chiama Dance Quindi sono tre Dance, Bans e c'è l'altra, la ragazza che non mi ricordo Insomma, la ragazza yo-kai, la yo-kai del trio La ragazza, e non mi ricordo come si chiama Tanto non li guardiamo sicuramente, dovremo catturarla secondo me A questa sensazione muoviti, cioè, devo fatturare per, non è che questo è senza devo convivere la collezione, basta vanno alle ciance, ok, parliamo con danza dai, balliamo dalla danza dei campioni, siamo oh, e alleluia mi si è abbassata l'acqua, perfetto ovviamente possiamo andare avanti nella grotta prima di andare avanti però, diciamocelo là, eh fatto abbiamo ripreso l'energia proseguiamo me ne ero un po' insospettita che questi indovileni erano necessari per abbassare questo labirinto a cuo bene, una buona vola di fuga per a tre di qua non si passa di qua non si passa, di qua non si passa saliamo di sopra e andiamo verso sinistra che mi sa che si è aperta proprio questa strada qui si scende, vieni, giù lo piavo, via, non c'è tempo lei è, non c'è balzo e balzo, tra l'altro mi potrebbero anche droppare un po' di rami, nel senso farmi tornare no, a parte di là ce l'avevo sempre droppato non l'ho mai comprato per ora però lo dovrò comprare vai energy max si, vai ondona ciao abbiamo vinto a man bassa oh ecco finalmente del ramen così se c'è la pipa glielo diamo allora lì c'è un guilla aiuto qui c'è del rosa è per qui allora vediamo lente eccolo lì eccoci qua il quiz cartello vediamo chi c'è adesso quiz cartello sana ottima alga parte di un trio danza e il suo rivale questa è quella mi sa che è la tipa di cui non mi ricordo dove vi fa piacere intanto c'è una cassetta tonno pinne gialla dove si passa ecco qui c'è un'anguilla ritorgo il cibo preferito dell'anguilla si la carne vediamo se c'è della carne c'è della carne curry riso bambù fegata la piastra vediamo se questo vi piace va bene energy max si vai è uno schiaffo affettivo vediamo se può servire per farli venire con noi aiuti vuole solo giocare forza aumentata vai vai quella furia è sempre tante ti avrei da spillare anche quella cosa blu è morto lo stesso senza anche super allora vediamo hai un sacco di punti di esperienza dei crackers ciao angelina allora proseguiamo risaliamo di sopra e vediamo chi c'è oh ecco lui mi piacerebbe averlo in squadra mi ricordo il cibo a tanto accordo sono riuscito a catturarlo vai così vai così vai cica vai cica vai cica cica ma l'ho già incantato purifichiamo cica là ottimo seccate tutte e tre caramella alla frutta e voilà maloriccio ti viene incontro sei davvero forte alessi che vogliamo fare amicizia stiamo mettendo medaglie sono a 25 sono sempre un po' bassa voglio nominare no vai con questa 27 perché ho 20 medaglie l'anima immagina 21 due medaglie proseguiamo e teni c'è la scatola da prendere qua e spara grande scendiamo di qui poi ah siamo ad occhio perfetto si riprendiamo un po' l'energia allora non mi scopri un attimo di qua vabbè affrontiamo lui dan combatti vai questo e poi questo su sempre ma come sempre vive banz abbiamo vinto livello 14 15 scusate guardate ora cioè sono stata non so quanto può fare amicizia sì ma veramente parecchio ma aiutate a vedere parecchio e ora guardate mi fa amicizia così va bene va bene lui si accetta tutte le amicizie possibili e immaginabili questa ce l'abbiamo mi sei mi è andato giù ma di qua si può passare eh sì però non si può andare su quindi niente questa strada non si può prendere per forza quella per forza quella ma nemmeno una scaletta recupera energia sì ci siamo ci passiamo davanti perché non approfittarmi eccoti vai combatti non è che Banz dopo ci prova a scrivere Banz sembra un ragazzo Banz però magari con questo look un po' strano cioè strano il look è normale Energy Max di Cicca Lama tra le fuori fieca questi resistono un po' troppo questo è là veramente sono alleghe beh ciao adesso è un piacere combattervi abbiamo vinto giacca allegra proseguiamo proseguiamo c'era l'anguilla fammi vedere vediamo se ci riesco a mettere Banz magari Banz mi va bene anche perché non è che l'abbia trovata tanto l'altra il terzo ballerino e vedi bene quindi Sanas forse intende che è un'alga perfetto perfetto vai ormai ci ho provato sì ce l'ho è stato il primo a voler cioè primo nella grotta a voler fare amicizia con me e voilà perfetto danza con me ok danziamo dai balliamo 1 2 3 1 2 3 dai balliamo vai ha fatto tutto ha riappassato non si si vai giù ecco chi m'ha preso anguilla ha ha non ho carne facciamo facciamo così 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 vai no che già non ho carne c'è nell'hamburger questo coscia di pollo vediamo oh vedi energy max di jibanian dai dai entra anche se anguilla ha nella nostra collezione il nostro modagliere abbiamo vinto 106 cracker gigante e proseguiamo alla ricerca di questa nuova passaggia cerchiamo questa strada nuova che si è aperta di qua forse va via fammi risalire c'è uno e mi insegue oh niente di qua ma poi ce l'ho arrivata anche prima eh sì ecco fammi un po' vedere ricopriamo energia questa tutta è tutta bloccata ma non ci sono liane non c'è niente vieni eh lei tans la terza vedi tans eh lei ma dai c'ha più ma a parte c'hanno un fiocchino tutti ma più dai dai un fiocchino più grosso dai non è che ho avuto le travego insomma ci può stare dai specchio riflesso vai morti vuoi venire con noi tans non vuoi venire con noi tans lì c'è il blocco e come si fa e dove li passo vi vanno vi vanno e da dove passo devo trovare la via in cerca della via via vado ok sono ritornata qui da dans buds e ci potevo riparlare ho avuto questa illumination e infatti ecco sale l'acqua e così possiamo passare di qua nel mentre ho fatto altre battaglie ho fatto amicizia con un'altra gente oh qui c'è una scatola con un altro yokai più che gente via andiamo di qua salve via battagliamo tarta anguilla mi manca alla collezione lui ce l'ho ce l'ho attacco energy max vediamo se li sdraiamo subito subito con un colpo di zappettate andiamo avanti qui c'è l'altra che ho preso l'altra che c'è qualcosa l'altro yokai qui c'è una scatola e l'apriamo bambola d'argento che devo vendere lui manca però vediamo zardo cibo più fritto di zardo oggetti oggetti vediamo se ho qualcosa di pesce cracker gigante gamberetti piccanti vediamo niente di che bene vai ah ma questo rigenera salute aspetta no così ho fatto evolvere il cicalama dovrò riprendere il cicalama perché mi piace il cicalama il cicalabile non è che mi ci trovi tanto vai un don spiaccicalo o meglio un micalo e via ciao chissà se zardo vuoi fare amicizze con noi braccio letto niente niente amicizzi e allora proseguiamo di qua mi dice l'ha già pazzata con taz 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 eccolo lì un quiz cartello ho visto ma sarà l'ora di finire con questi quiz cartelli all'interno di questa grotta labirintosa quiz cartello e taz aspetta fammi vedere il nome giusto medaglie medaglie questo è nuovo ah e questo quando l'ho trovato sì con le foto ho provato a fare le foto con Kai davvero li ho scoperti così eccola qua taz taz è lei bene presa da ormai è la grotta di loro l'amore di danza l'amore di banza non è ricambiata non ricambia nell'uno nell'altro ecco appunto taz se è lei dai e vedrai ormai è la londa del trio ce l'abbiamo ce l'abbiamo eccola mettiti lì tanz bene ok adesso possiamo chiacchierare con tanz ci apre nuove strade vediamo ecco infatti vedo che qui c'è ah quella ha fatto anche paura c'è l'altro anche questo qui qua in fondo mi manca del manzo della carne non ho carne spiedi il manzo vediamo no va bene come ti facciamo ridere e vai rispecchialo rispecchialo te specchia riflesso ma la gola ma l'oriccio ce l'abbiamo in collezione dai 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 rompi la maledizione bene qui yes proseguiamo insomma visto che c'è stata parecchia esperienza 145 una scatola tecnipedia vai dai che forse ce la facciamo a trovare la serena si chiamava e qui e da qui e da qui e da qui dai si scende la scatola l'oriccio di mare vai continuiamo la battaglia battaglia tutto spiano con la furia vai con la furia tutte e tre secchi con un corpo solo e vai chi viene da fare amicizia con noi 123 esperienza e nessuno sarebbe andiamo di qua zardo ciao zardo un attimino ecco qua elimina la maledizione del presente ci ha fatto storiare finalmente abbiamo trovato ora è tempo di usare l'estratto di chi osa disturbare la mia scultura sirena sembra che questa sia grossa qualcosa di grosso stia per arrivare oh porca miseria ho anche poca salute se osate attaccare la mia bella serena allora dovrete temere ancora perché lei è la mia sposa e non permetterò a nessun altro di averla ecco bene miau la tua sposa non voglio vantarmi ma è stato amore a prima vista molte lune fa l'ho intravista nelle onde ho perso molte navi cercando di ritrovarla mi vergognavo dai miei dei mille fallimenti e sono andato alla deriva nel mare dei rimorsi aspetta e questo sarebbe qualcosa di cui ti vanti silenzio navigare in un oceano di rimorsi è una segna di verità lascia che ve lo dimostri vi farò pentire di avermi soviate qui oh via battagliamo e leviamoci a sto pensiero via ci sa da vincere insomma non è che sono messa bene allora così oggetti no che oggetti combatti rafforziamoci vado un po' se mi ammazza ci bani ok perfetto situazione così energy max che mi serve a me un po' di vita per rivela aspetta che dovrei indicare dove colpire il punto debole poi oggetti chiamo aspetta cos'è cosa gli potrei dare cos'è va proviamo questo il cracker va un po' di vita gliela ha dato ok stiamo a te ti sono messi male per dindirindina no cercami almeno schiaffo d'affetto ci si fa dandino puntiamolo lì dal centro da super ancora super qualcosa gli abbiamo fatto mamma mia oggetti della granita vedi che ha preso un po' più di vigore super teniamo duro perché vedi vedi far cappa energy max e dai 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 non siamo ancora a metà della vita del boss mummumiao ma che diventa anche la mucca un dona bersaglio questa la voglio oh energy max di jibanyan ah non ho messo lo spillo va bene uguale vai è pronto è pronto lui è pronto un'altra volta un'altra onda oh energy max dello specchio siamo a metà siamo a metà vita specchio riflesso dai sotto metà aumentiamo le difese ombre rapida schiaffo affettivo di rivela schiaffo d'affetto guarda che bella bella energy max di jibanyan poi io non avevo visto la salute poi io vai brand di rivela vai 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 jibanyan con il no no che sto facendo ah è perché l'avevo fatta la super giochiamoci anche la super di bovini divino oh ma perché non mi disegna per bene perché disegno fuori dalle righe ci sta buona sorte buono colpite gli accenti ragazzi vai per favore gli accenti non posso girare la ruota perché me l'abbia bloccata cosa sta facendo mi ha tirato l'onda no me l'ha fatto fuori oh ma sei pazzo a farmi fuori bovini divino ok siamo liberi e non ho super bene dai gli manca po' dai gli manca po' che pota girala oi oi andiamo da mangiare andiamo da mangiare a jibanyan dov'è no me l'ha ammazzato insomma qualcuno oh eccola qua mi stavo dicendo qualcuno può fare l'energy max eccola qui rivela rivela uno schiaffo affettivo d'affetto e abbiamo vinto senza schiaffo è stato un bel boss altro boss trovato ha un volito currazzato per noi più ora possiamo finalmente romper la medizione di serena sì finalmente va bene esatto vai estratto di pietrisco oh e vai l'ultimo yokai e la medizione spezzata se ne è tornata normale ha funzionato come se fossi un incantesimo e voi chi siete dove mi trovo beh è una storia lunga e raccontano easy vai è così eccoci qua beh allora visto che è per carta sarò lieto di aiutarvi e vai un'altra amica è con noi un altro yokai amico oh yes quindi abbiamo finito le missioni chiave eccola qua nella pagina 26 e un altro sigillo è stato sbloccato chiedete a me se volete una mano noterò da voi in un batter paleno grazie signora serena signorina serena anzogliavo saperla sana e salva già vai hai completato trova serena bene e via quale vuoi uno di questi due vai anello lunare scena bonus è tutta storta questa che è a lei si è ritrovata benissimo allora con questo ritrovo di serena e con questo boss affrontato io vi ringrazio per no 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 Rivela non la faccio evolvere si si Rivela mi piace troppo così vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace commentate iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e adesso ciao ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti